Basta con i disabili. Simone, hanno il parcheggio gratuito, bello preciso, le strisce gialle e si lamentano se una persona prende una multa e invece è contro di loro perché ha parcheggiato sul loro posto destinato. Si lamentano pure se uno va lì e gli vandalizza la carrozzina elettrica. Ma dove siamo? Ma è incredibile. Voi siete fortunati, lo sapete, sì? Certo che siamo fortunati. Siamo fortunati perché la mattina non ci alziamo da soli, perché abbiamo bisogno di chi ci porta il caffè a letto, chi ci lava, chi ci prepara i panni. Pensi che sia una condizione di privilegio? Assolutamente, sì. Siete fortunati perché siete in compagnia la mattina e avete la possibilità di essere assistiti. È una cosa incredibile. Poi siete anche comodi. Questa è una carrozzina elettrica, giusto? Certo. Risco di saltare in aria tutti i giorni, la batteria al litio, però alla fine la durata è di due settimane, mi porta a spasso, non faccio fatica, si ricarica da sola, quindi alla fine. Voi venite presi in braccio, messi a letto, venerati, coccolati? Noi anche portate al bagno, se proprio devo essere sincera, sì. E quindi non andate al bagno da soli? Non andiamo al bagno da soli, abbiamo compagnia anche lì, anche nei momenti più di privacy, insomma, no? E poi perché vi lamentate se uno parcheggia nel vostro stallo, bello, giallo, o mette la macchina vicino e voi non potete uscire? È assurdo. E chiamate anche la polizia municipale. Ci lamentiamo perché siamo stronzi, brutti e cattivi. Ecco perché. Questo è vero però, eh. Io sono d'accordo con voi, basta anche con gli sgravi fiscali, avete anche una pensione di invalidità che non è aumentata, a quanto pare. Anche l'accompagnamento, l'accompagnamento però è aumentato. Siete contenti di questo, vero? Siamo contenti, siamo contenti. Diciamo che la pensione è aumentata di un po', l'accompagnamento no, però va in base all'ISI adesso. E poi un attimo, e allora gli episodi di cronaca che abbiamo raccontato, quelle della bambina con la carrozzina vandalizzata, quella della persona che è stata ingiuriata da un'altra persona normodotata, si chiamano normodotata, che ha inveito perché aveva parcheggiato per circa solo due ore al suo posto. Hanno fatto bene. Dovono sgonfiare pure le ruote. Prima si sgonfiano le ruote e poi si rompe la carrozzina. Perché la civiltà e anche quella di vandalizzare i disabili, che come vedete sono fortunati. Anzi adesso mi metto alla stessa altezza perché tanto poi io mi posso alzare e voi no. Ti piace questa prospettiva? Come la vedi? Non ti sembra un mondo diverso? Sì. Bisognerebbe provarlo prima di fare certe cose, vero? Secondo me sì. Anche a me piacerebbe provare l'altezza tua, ad esempio. Fate Vobis. Benefetto. Quindi�. Grazie a tutti.